Noi la crisi non la paghiamo! Noi la crisi non la paghiamo! In questo momento stiamo chiudendo simbolicamente la terza banca della giornata e stiamo chiudendo per far capire a chi gestisce i grandi istituti finanziari che loro hanno creato il debito e che loro lo devono pagare non possono imporre alle persone, ai cittadini e alle cittadine fai la risoluzione della loro vita, la risoluzione della loro vita, della loro resistenza perché hanno bisogno di soldi, perché hanno bisogno di rientrarci economicamente Noi oggi stiamo chiudendo le banche di questa città, stiamo chiudendo le banche del centro e invitiamo tutti quelli che sono qui insieme a noi a venire l'11 di novembre, venerdì prossimo, in chiesa della Lega per una giornata che non è solida in estate e che non è solida in tempo